E voltiamo pagina per parlare di economia, andamento del mercato e fisco. Tutto questo oggi in compagnia di Mario Michelino, presidente Andoc, Associazione Nazionale Dottori Commercialisti, con cui affronteremo i temi di maggiore interesse comune. Buongiorno e benvenuto a Mattina Live. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Partiamo dal Superbonus. Qual è stata la sua valutazione sull'impatto del Superbonus nel settore immobiliare e sulle dinamiche del mercato? Il Superbonus è stato un ottimo incentivo per far ripartire il mercato immobiliare, soprattutto dopo il Covid. Facciamo un breve escursus storico ricordando che l'edilizia e la rivisitazione del patrimonio immobiliare è sempre stato un elemento trenante per la nostra economia. Già dalla finanziaria del 1998 c'era la possibilità appunto di soffrire di queste detrazioni che poi nel corso degli anni hanno visto variare l'aliquota dal 41, 36 e ritornare al 41. Unitamente poi alle ristrutturazioni si è anche inserito quello che è stato la riqualificazione energetica degli appartamenti, degli immobili, proprio per allinearci a quelli che erano anche le direttive della comunità europea. Col Superbonus appunto parliamo del 2020, Superbonus bonus facciate, si è data la possibilità e si mass bonus di ripartire con una serie di lavori proprio nel decreto rilancio subito a cavallo della pandemia per dare un impulso notevole di ripresa all'economia. Con questo quindi è stata una valutazione positiva. Purtroppo dobbiamo dare atto che ci sono stati degli elementi distorsivi, soprattutto per quanto riguarda il bonus facciate che prevedeva il 90% e il Superbonus del 110, elementi distorsivi che sono comparsi in corso d'opera all'utilizzo diciamo errato di quelli che erano le previsioni normative. Si è corso ai ripari col decreto antifraude del 157 e con le ultime modifiche appunto anche nella finanza del 2024 che hanno previsto la riduzione di questi benefici fiscali ma che comunque in considerazione di tutte queste modifiche l'impatto sull'economia è stato positivo. Certo sentiamo parlare oggi di una serie di buco appunto nella finanziaria di circa, stimato di circa 34 miliardi però diciamo è ancora da quantificare. Nel complesso si ritiene comunque che sia stato un diciamo una misura a favore dei cittadini che abbia dato una partenza, una ripartenza a quella che era l'economia un po' ferma nel momento del Covid. Come valuta l'efficacia delle misure attuate proprio per favorire l'accesso al super bonus e poi migliorare ovviamente anche la sua implementazione? Le misure diciamo nel corso del tempo, quindi partiamo dal 2020, avvio del super bonus e bonus facciate sono state migliorate proprio per cucire addosso a quelli che erano gli interventi previsti per la rivalutazione misure idonee sia per l'attestazione di quelli che erano i lavori eseguiti sia per quanto riguarda il controllo a monte che andava fatto. Purtroppo i primi diciamo i primi interventi non prevedevano una serie di controlli ci si è accorti che in corso d'opera venivano appunto effettuati dei interventi diciamo cosiddetti chiamiamoli non a norma e in questo caso sono stati introdotti poi degli elementi correttivi. Fino a che adesso siamo nel 2024, riduzione delle aliquote, attestazioni dei professionisti professionisti qualificati sia per quanto riguarda la contabilità che per quanto riguarda l'aspetto tecnico dotati di una polizza professionale proprio per questo tipo di interventi che ha garantito adesso diciamo la completezza e sicurezza delle prestazioni per quanto riguarda il super bonus stesso. Il governo tra l'altro ha messo in atto delle misure di contrasto alle aperture delle partite IVA fittizie. Quale ulteriori azioni ritiene che possono essere necessarie e adottate per migliorare questo aspetto? Un monitoraggio purtroppo su tutto ciò che la platea degli operatori economici è necessario, è fondamentale a partire per ogni tipo di misura che viene messa in campo dal governo. Con questo nuovo diciamo con questo nuovo percorso le partite IVA vengono attenzionate particolarmente, vengono attenzionate per quanto riguarda quelle che sono dei settori tra virgolette critici identificati in determinate liste campioni e adesso diciamo questi tipi di partite IVA vengono non solo controllate in fase di apertura ma è possibile che ci sia anche un sopralluogo fisico proprio da parte dell'agenzia delle entrate presso la sede legale e eventualmente il contribuente viene anche invitato presso le sedi dell'agenzia. In quel caso viene redatto un verbale di constatazione nel quale se tutto diciamo è a norma, tutto a posto viene chiuso con un semplice diciamo accesso, altrimenti se si rilevano aspetti di criticità queste partite IVA vengono chiuse. Nel momento in cui vengono chiuse chiaramente non è possibile operare più con le compensazioni in F24 di tipo orizzontale e soprattutto non è possibile più riaprirle queste partite IVA. Quei soggetti per poter riaprire la partita IVA dovranno presentare all'agenzia una polizia fideossoria almeno di 50 mila euro per tre anni proprio per evitare questi effetti diciamo elusivi da parte di soggetti non addetti ai lavori. IMU, cosa pensa delle proposte riguardanti il versamento maggiore dell'IMU e quali possono essere in qualche modo anche gli impatti sui cittadini e sulle imprese? Questa è stata una bella sorpresa diciamo bella intesa anche in senso negativo perché come sappiamo l'IMU, l'imposta municipale viene pagata in due rate 16 giugno e 16 dicembre in base a delle aliquote che vengono deliberati appunto dagli enti locali. Che cosa è successo? È successo che per dare conoscenza e trasparenza di queste delibere a tutti i cittadini hanno dei tempi tecnici per quanto riguarda la delibera ad adottare dall'ente locale, la pubblicazione sul portale per portare a conoscenza di tutti quanti di questi aliquoti. Chiaramente ci si è trovato in una situazione di ritardo quest'anno quindi sono slittate e vengono ancora considerate tempestive delle delibere degli enti locali non più quindi da novembre ma è stato possibile anche deliberarle a ottobre con la possibilità di aggiornare il portale a gennaio. Questo che cosa comporta? Comporta due tipi di problemi fortunatamente Napoli non è in questo caso ma molti comuni si trovano ad aver deliberato aliquote maggiori, i contribuenti quindi dovranno versare entro il 29 febbraio la differenza di questo maggior aliquota IMO e quindi con un po' diciamo di fastidio in quanto questa è anche un'imposta difficilmente digerita insomma per quanto riguarda l'imposta. Invece qual è la sua opinione sulle attuali aliquote dell'IRPF e sugli eventuali ovviamente aggiustamenti che potrebbero essere in qualche modo anche necessari per favorire la crescita economica e garantire un'equità fiscale? Diciamo che questo è un aspetto che è stato preso in considerazione con la legge di bilancio 2024, l'equità tra la diciamo tra la appunto nell'applicazione dell'imposizione fiscale con l'accorpamento delle aliquote a tre a tre aliquote quindi sono state accorpate i primi due scaglioni c'è stato sicuramente un una semplificazione nell'aspetto fiscale. Diciamo che il nostro sistema tributario è uno dei più complessi in quanto prevede non solo delle stratificazioni tra vari codici dpr che rende quasi difficile l'erogazione. In questo modo con l'aliquote diciamo che vengono unificate c'è una semplificazione. La semplificazione ha portato dei benefici che vengono quantificati in base alle simulazioni effettuate in circa 260 euro per i soggetti under 30 mila euro massimo fino a 40 mila euro. Con una serie di correttivi che riguardano deducibilità e detraibilità di alcune voci, alcune spese, è stato diciamo anche neutralizzato quelli che possono essere, che potevano essere i benefici fiscali per gli importi superiori a 50 mila euro. Quindi c'è stato comunque un adeguamento di quelle che sono tutte le prestazioni. Sicuramente adesso che entreremo nel vivo delle liquidazioni uniche, quindi della dichiarazione del modello unico, cosa che si farà l'anno prossimo perché noi paghiamo l'unico diciamo in fase differenziata, vedremo se tutti i correttivi adottati garantiranno questa equità appunto tra le persone in base al reddito. Ma come valuta l'attuale struttura del calendario fiscale? Quali proposte suggerisce per in qualche modo semplificarlo e quindi renderlo poi più adattabili alle esigenze dei contribuenti e anche delle imprese? Allora su questo diciamo noi come sindacato ma anche con altri sindacati trovo una posizione un po' critica perché in realtà la nostra criticità riguarda la semplificazione. Si parla sempre di semplificazione però in realtà di semplificazione c'è ben poco. Va detto che con l'attuale governance, quindi col dottor Leo, per quanto riguarda il calendario fiscale sono stati adottati una serie di correttivi sicuramente validi ma non soddisfacenti. La misura poteva essere sicuramente più coraggiosa e diciamo le due criticità che noi rileviamo in particolare sono sul concordato preventivo che prevede addirittura una risposta di cinque giorni e la necessità di dover inviare gli ISA degli indicatori per quanto riguarda la situazione economica, l'affidabilità delle imprese differenziati da quella che è la dichiarazione dei redditi. In realtà queste due criticità comporteranno sicuramente degli sfasamenti nell'elaborazione. Noi chiediamo sicuramente una riduzione di tutti quelli che sono gli adempimenti fiscali a carico delle imprese, dei singoli cittadini ma soprattutto per avere un'uniformità. La cosa principale è evitare quegli adempimenti ridondanti che sono relativi adempimenti che hanno dei dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Il più dibattuto, il più eclatante è rappresentato dal 770, una dichiarazione nel quale prevede semplicemente un riepilogo di informazioni già trasmesse a febbraio con il modello CO. Certo, noi la ringraziamo veramente per essere stata in nostra compagnia stamattina a Mattina Live e quindi ringraziamo ancora una volta Mario Michelino, presidente Ando, che noi ci vediamo tra pochissimo dopo un piccolo break. Rimanete con noi.